Allora prima di tutto oggi in questo episodio mi parla quando nasce in pietra e una spada in pietra dopo aver dormito Dopo aver dormito quindi dai Dopo aver dormito e dopo andremo a scavare perchè non c'è più ferro Quindi dai riesco almeno di morire però almeno Non c'è il ferro Non è noto Comunque adesso facciamo questa roba E' quella che volevo fare Tipo cosi Eh tipo una roba del genere Ecco Che potrebbe essere carino se vi piace la rosa Così proprio per me mi alza una bellissima rosa Mentre qua mettiamo i vasetti Che il mio colegio non si rompe Che il mio colegio non si butta nella lava Invece odiare il cibo Mi servono soltanto 5 pezzi per fare 2 robe Una spada e una accetta Che cosa è che cosa vuoi fare Che vuoi fare Che vuoi fare Non vado prima di passare da qua da prima Oh non l'avrei mai detto Che vuoi fare Ma anche il legno 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 C'era il questo cos'è Oh no Legno no Non c'è questa roba Non c'è questa roba Non lo dico ora sono un pochino il volume più basso guarda non era questo non era questo è il suo favorito 20-0 quindi andiamo a prendere anche della regna si felicissimo andiamo a prendere la regna con la pala o con la spada con la terra io adesso prendere la pala prendere della legna con questa non ha senso però va bene ci proveremo cioè guarda ma cos'è si spacca anche abbastanza veloce prendevo due ma per sicurezza ovviamente si è messo piove perché quella è la fortuna che ho io ok voi perché dobbiamo prendere anche del carbone dobbiamo prendere dobbiamo prendere molte risorse tra il carbone e altre cose arrivano molte allora qua ci mettiamo questa qua in posizione quando torniamo ci abbiamo aggiunto le carni però non lo spavano ci mettiamo questo qua in legno ok va bene dai questo dei blocchi la legna questi questi poi vabbè ecco qua ecco qua dove mi era penso che piove questa miniera non avevo finito di esplorare se non mi sbaglio e comunque ho riuscito a qualcosa questo qua sotto tutto esplorato qua sotto non c'è nulla questo qua se non mi sbaglio qua c'è un buco comunque il caverno continuava sempre questo qua questa volta no nooo ce la faremo via facendo ma per ora che non può essere qui ho messo il carbone quello che tutti quanti hanno oh carbone ho messo il carbone 12 torce ma non mi basteranno mai però dai 9 12 quando ci sono mesi comunque adesso ci prendo tutto quanto il carbone ecco perché prendo tutto o perché almeno così per cucinare e non abbiamo problemi per un pochino almeno quello qua ce n'era uno quello che avevo visto l'altro la prima volta che poi però un ferro oh prendiamoci il ferro che per adesso è la cosa migliore io l'ho trovato è un'altro perchè è perfetto c'è più non c'è più null non c'è più non c'è più non c'è più non c'è più è Quanto ferro è che torno a casa con 12 di ferro per farmi una arrambatura, questo di loro vabbè 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 un altro ferro va bene questo qua non è molto, dopo torniamo in superficie, e raga me ne torno sincera davanti che tanto ormai ogni volta per 2.000 e ci muoio, la prima volta col creeper guarda che sapete qual è il detto, come io si, scusate, amicista, vediamo come la prendo tutta, mettiamo un pochino di torce così, non sponiamo, beh guarda ci sono fatti anche il binocchio guarda ci sono fatti anche il binocchio ma guarda che me la prendo tutta semmai raga questa parte la taglio, però raga mi sa che questa parte non la taglio, però guarda almeno quanto è il mio fattuto che sta già трinta sette mamma mia quindi su cosa si spogliete proprio velocemente comunque bella questo l'acqua devi visitare, alcune volte ho fatto morire, alcune volte ho fatto la ricchetta con tutte le cinquenta se... no 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 guarda che ho continuato a prendere guarda che ho preferito che mi piccone guarda se no devo non star guarda che sta partendo guarda come importa un attimo nonna allora io la prendo ancora un pochino al prossimo video mi vedrete senza più il copo diametista e tutto per questo video ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao